Pancaro diceva che abbiamo dominato la gara per 95 minuti, a me non risulta che il Cosenza al secondo tempo ha dato più di una gatta da pelare alla squadra siciliana. Sicuramente 96. Che il Catania sia una squadra fortissima, capace di tutto, lo sappiamo, grande squadra, grande allenatore, grande pubblico, grande piazza. La verità sta che il primo tempo noi siamo stati molto scolastici, dubanti, qualche giocatore giocava veramente con la palla scottava e abbiamo sofferto un po' queste ripartenze veloci. Invece il secondo tempo secondo me la partita è stata molto più librata e il Catania poteva fare gol, però poteva anche subirlo. Dunque i miei ragazzi che hanno dato il 110%, compreso il 98% che è entrato alla fine, lo conosco da 15 giorni, che si allena con noi. E dunque io sono strafelice perché quando tutti danno il 100% anche qualcosa in più, più di quello non posso chiedere. Forse la nota positiva è proprio questa qui, di due under, due baby in squadra che alla fine hanno fatto la loro parte. Beh noi se non portiamo questi ragazzi ad essere titolari, sappiamo di avere una rosa con tanti under, abbiamo 14 over, lo sappiamo, 10 under. Questi under devono crescere, il Fior di Lino è già un over, questo Minardi prestissimo sarà over, questa è la nostra cosa che dobbiamo fare. Però ripeto, la partita del secondo tempo mi ha dato veramente una grande soddisfazione. Qualcuno ha il cosiddetto già perspacciato, intanto si va a giocare per la firma, Catania, come si è dimostrato che con capacità e voglia di fare si ottengono risultati? Vabbè nessuno va a giocare per la firma anche se a Catania o da altre parti, io ho allenato squadre forti come il Catania, battere anche quelle meno forti non è mai facile. Adesso non è che il Catania debba vincere tutte le partite, sta facendo benissimo, è partita in ritardo come preparazione, ha grandi giocatori, sicuramente farà un grande campionato. Però non è che le può vincere tutte, oggi ha trovato secondo me, soprattutto nel secondo tempo, veramente dei ragazzi fantastici che non hanno mollato nessuna palla. Nel primo tempo forse la palla scottava perché l'impatto con il massimino è veramente importante? Qualche giocatore ha sofferto questo, abbiamo tenuto pochissimo la palla davanti, forse mai, ed è normale che quando concedi sempre la palla all'avversario, l'avversario gioca bene. Ha giocato bene, ha concluso poco, ci sono difesi benino ma non benissimo, cosa che invece nel secondo tempo abbiamo contraattaccato veramente in 4-5 situazioni dove potevamo fare gol. Nel momento la difesa gira bene al mestiere? La difesa gira bene se la squadra e il centrocampo gira bene, dunque il nostro fito di centrocampo sono ragazzi giovani, fantastici e dunque sono molto contento, avevamo Criaco con la febbre che ha giocato pochi minuti, avevamo veramente un sacco di problemi, però sono veramente, li ringrazio perché sono ragazzi che danno il 110%. Domenico arriva alla Casertana, dentro sette giorni tre partiti importantissime. Eh sì, come sapete non era proprio la mia gioia fare questo recupero in questo momento, però stiamo alle regole e io mi auguro di sicuramente metterò in campo una squadra che darà tutto, poi vedremo cosa succederà. Ultima parentesi, Raimondi l'abbiamo visto in forma, anche se poi alla fine zoppicava. Eh sì, purtroppo ho dovuto anche riuscire, qualche affaticamento, ripeto, sono mesi che non giocava, ha tenuto benissimo quasi tutta la gara, ripeto, mi auguro di avere a disposizione per domenica più giocatori possibili. Grazie. Grazie a voi.